ciao ragazzi benvenuti sul canale board games ed intorni e oggi facciamo un gameplay di tamashi un gioco cyberpunk ambientazione cyberpunk una ambientazione fantastica devo dire che sto veramente apprezzando in questi giorni diciamo che non è ancora presto per fare il mio solito video due chiacchiere però prima o poi arriverà allora non perdiamoci in chiacchiere e vediamo un po qua io ho già parecchiato un gioco che non occupa via tantissimo spazio si organizzate meglio i componenti di rispetto a confronto adesso ci sta anche in tavoli più piccoli tant'è che normalmente non lo gioco qui ma lo gioco sulla scrivania ma per il video preferisco stare qua perché sono più comodo con la telecamera detto ciò allora non starò a fare un tutorial vi spiegherò le regole man mano che giochiamo le cose che vi serve sapere a voi interessa capire com'è all'incirca il flusso di questo gioco e se può poi può piacervi o meno ora vi dirò anche un minimo di loro perché è interessante poi serve per capire anche le cose che andremo a fare parte da un presupposto che è stato usato diverse volte però devo dire che è abbastanza interessante tra l'altro è una storia che voi scoprite man mano che giocate gli scenari allora in poche parole siamo in un mondo diciamo anche post apocalittico mondo cyberbank dove però la razza umana è costantemente cacciata da un'intelligenza artificiale detta shend che sguinza i suoi robot cyborg in giro per la città cercando di far fuori gli umani che trova tant'è che gli umani vivono tutti nascosti sotto terra voi siete un tizio particolare perché quanto pare esistano queste persone come voi che possono prendere possesso di corpi abbiamo qua un mazzo di corpi di body inizialmente si parte con un body standard di walker quindi voi prendete possesso di questi corpi che a dire la verità non ho capito bene se sono altri umani con coscienza o meno ma mi sembra di no mi pare di aver capito che sono praticamente dei cyborg che sono stati costruiti apposta per essere posseduti diciamo da questo tipo particolare di umano voi avete una coscienza che praticamente è caricata in rete nel cloud della rete e avete questa coscienza di prendere possesso dei corpi normalmente quando questi corpi muoiono quelli come voi fanno la stessa fine ma voi avete una particolarità rispetto a tutti gli altri umani che possono fare questa cosa cioè riuscite a uploadarvi immediatamente di nuovo nella rete e quindi non crepate potete prendere possesso di un altro corpo questa è un'operazione che meccanicamente nel gioco c'è il reset e potete resettare la vostra identità ogni qualvolta schiattate ok quindi siete praticamente immortali a tutti gli effetti sa di fatto che il gioco nella diciamo nella premessa nel tutorial vi spiega appunto com'è questo mondo vi dice all'incirca vi dà qualche istruzione basica di chi siete voi ma tutto il resto lo dovrete scoprire questo perché voi partite con un'amnesia non vi ricordate un tubazzo e quindi dovete capire cercare di capire chi siete e quello che vi circonda perché non vi ricordate nemmeno nulla di questo mondo qua ok quindi questo sono all'incirca di antefatti della storia e man mano che giocate queste missioni queste storielle tutte incapsulate autoconclusive però scoprite vari tasselli della storia principale e alla fine quando avrete giocate tutte avrete accesso all'ultima missione che si pensa si spera dipanerà tutto ok il gioco fa anche una cosa molto carina benché i scenari siano scollegati in realtà qualunque cosa che fate qua sblocca roba nuova che può essere nemici nuovi corpi nuovi abilità nuove c'è uno sblocco continuo di roba sia che perdiate sia che falliate la missione in più ogni missione che fate ha diverse possibilità di essere terminata quindi dipende molto come come fate voi gioco è molto difficile molto sfidante dovete giocare bene perché questo gioco qua vi randella mica da ridere non gioco dove bisogna pensare pianificare in anticipo le proprie mosse c'è questa parte qua della programmazione che il cuore del gioco da qua praticamente poi farete tutto e vedrete mentre giochiamo allora cosa abbiamo qua sul tavolo abbiamo un po un po di roba abbiamo i token quelli che usiamo per programmare ci sono vari tipi di token sono quattro standard più alcuni speciali e verranno mostri su questa griglia poi abbiamo la mappa la nostra mappa che ovviamente è diversa ogni volta questa è una conformazione indicata nella missione ci sono solo poche taggi a scoperte che sono quelle principali basiche però tutto il resto è da scoprire e poi ovviamente ogni missione ha un layout diverso però dato che le tile cambiano c'è anche il sapore della missione vi garantisco che cambia in base a come escono fuori queste cioè quindi comunque anche alla stessa missione io questa l'ho giocata più volte per un sacco di mazzate tranne una volta che sono andato quasi vicino a vincerla anche alla stessa missione comunque poi cambia un po il gusto in base a quello che esce fuori è tutto randomico il setup poi abbiamo qua dei token molto carini che sono quelli per la vita l'esperienza di uso diciamo generico e un paio di altre cosucce che andremo a vedere man mano che giochiamo questo è il mazzo della missione ogni missione ha un suo mazzo con tutti gli eventi e parte della storia che piano piano si dipana qua c'è il timer track che è dinamico questo qua non è che si arriva a zero avete perso no assolutamente questo qua di solito gestisce i singoli eventi che ci sono in quel momento attivi e quindi andrà su e giù avanti indietro tranquillamente tra l'altro questa missione inizia che siamo a 5 tutto calibrato anche in base al numero di giocatori poi qui abbiamo i dati corrotti questa missione ne prevede 4 questo molto carini c'è l'insetto sono i bug dati corrotti sono dei bug nella programmazione se finisco questi la partita è finita in una sconfitta questi qua di solito vengono pescati quando fate delle azioni molto molto spinte al limite per risparmi dei nemici o quando fate il reset quindi vi resetate il personaggio poi qua abbiamo il mercato dei corpi allora inizialmente se ne tirano fuori due a casa quindi vediamo viene fuori il visionari e il quanimator sono dei corpi che io posso di cui posso impossessarmi se riesco a lanciare l'algoritmo indicato qua sotto che poi vedremo come appunto si usa e sono molto più potenti del corpo base cioè tutti i corpi che potete prendere sono più forti del corpo base che ha determinate caratteristiche di movimento di attacchi e quant'altro poi li vedremo dopo per non appesantire la spiegazione pranzo del personaggio si allora questo gioco è light tra virgolette diciamo che può essere visto anche con un peso meglio comunque di roba ce n'è al pranzo del personaggio il colore indica la classe abbiamo quattro colori quattro classi base diverse più due che ci sono non mi ricordo se gli stretch goal già ne o due o nell'espansione comunque sta di fatto che oltre ai corpi che io pensavo fossero le classi in realtà no la classe del personaggio è proprio questa la mia classe adesso non chiedetemi come si chiama perché ma dei nomi molto esotici alla cyberpunk usa ricordata quelli rossi a questi qua diciamo vuol dire che io prediligo praticamente i gettoni rossi che sono quelli che poi mi danno più potenza in attacco però durante la partita voi la potete cambiare ci sono dei posti sulla mappa dove voi la cambiate in base alle vostre esigenze in più alcune missioni richiedono anche di cambiare classe comunque poi la scheda contiene tutto quello di cui avete bisogno c'è il lancer dove vengono lanciati i programmi che ha una riga bloccata la sbloccate passando di livello il dump che si stacca perché quando è pieno quello prendete e lo infilate tutto dentro nel sacchetto per scaricare i gettoni liquidi e comoda sta roba e poi vari asset allora avete la vita che ha un comodo segnalino perché indica praticamente il massimo punti vita con più partite che 5 la vita è incrementabile passando di livello quattro asset base che sono la potenza questa serve per l'attacco il reroll serve per ritirarvi i dadi la difesa per pararvi dai colpi e la memoria per installare programmi asset diciamo esterni più potenti e poi c'è questa molto importante che è la la tracciatura questa qua è diciamo l'agro che fate sui nemici chiamiamo l'agro praticamente al segnale vostri in rete quando l'intelligenza artificiale cattiva vi inizia a percepire come un pericolo vi manda addosso un sacco di nemici non c'è limite nemici che può mandare addosso e potete avere attaccati alle chiappe altro mi piace molto come funziona il sistema di nemici sta di fatto che questa roba qua andrà per forza di cose verso l'alto per forza di cose come poi arriveranno nemici quindi insomma dovete gestirvela quando hanno messi nemici poi lo vedremo ecco di particolare se giocate in solo tu solo avete il jordan bot che è praticamente un robot che c'è un robotino è un altro personaggio che però ai fini del gioco e come se non esistesse ma vi permette di fare delle azioni non dove siete voi ma dove lui questa cosa supplisce un po il fatto che in due giocatori che cooperano effettivamente più semplice gioco io provato a giocare senza il jordan bot è un inferno quindi questa è la prima partita in cui lo voglio usare perché sono anche rotto alle scato di pigliare schiaffi il mio personaggio è questo io ho la versione standee quello principale il jordan bot si usa l'altro tipo di walker principale che è la femmina che questo parte dove siete voi però può andare anche lui ed esplorare dovete usare la batteria e le azioni per mandarle in giro può fare cose interessanti poi cosa abbiamo allora abbiamo questa particolare partita abbiamo due ai d'auto di due fazioni nel gioco ci sono diverse fazioni di base sono quattro però poi ci sono altre due aggiunte dall'espansione le fazioni vi danno dei potenziamenti simili a quelli della vostra classe ecco perché non ho detto che ogni classe ecco la mia larita ogni classe a un mazzettino di chiamiamoli talenti potenziamenti che voi potete andare a comprare e poi installare imparare al vostro personaggio gli stessi potenzi altri tipi di potenziamenti diversi li possono dare le fazioni potenziamenti vanno qua sotto non avete limite a quanti non potete avere partite con due standard quelli standard scritto proprio lo start sono gli argomenti start i class start io uso quello per il solo pvp ecco c'è anche il pvp nel gioco che non vedremo chiaramente c'è anche quello per la coop sta di fatto che questi qua sono due cose buone che mi servono per combattere questi sono fasi combattimento però ce ne sono di tutti i tipi di argomenti vedete di un po come oggetti che comprate armi sofisticate software nuovi insomma sono quella roba lì sono l'oggettistica che c'è un gioco fantasy qui ce l'avete sotto forma di argument poi cos'altro andiamo salendo veloce senza dare troppi dettagli perché sennò siamo con ora solamente per spiegarvi tutta sta roba qui nel dettaglio abbiamo tre carte doppio lato di aid assolutamente fondamentale ottime che dicono tutto la fase combattimento la fase di reset i programmi base che potete fare poi li vedremo cosa servono cosa sono i vari data token l'ordine di turno e l'upgrade quando livellate se quello che si interessano sarà l'ordine di turno ce la mettiamo qua di fianco ok poi abbiamo luci sinfondo dei dadi presi un po scusate allora dicevamo abbiamo dei dadi ce ne sono un bel po nella scatola per esempio 16 dadi comunque mediamente il vostro personaggio ne usa 3 4 5 io l'ho messo un po qua e i dadi per i nemici qua ce ne sono quattro nella scatola ma ne servirebbero solo due quando sia in tanti si fanno comodo avere una coppia in più uno che va a indicare quanti nemici agiscono e l'altro nemico che tipo di mossa farà proprio di quali vedremo durante il combattimento il mazzo nemici viene costruito dal gioco ogni per ogni missione ci sono mazzi di nemici diversi in questa missione particolare ho pochissimi nemici di livello 1 quelli facci pochi di livello 2 e poi non a fracca di livello 3 e quindi sono veramente tante mazzate se arrivano allora cosa bisogna fare all'ultima cosa che mi manca a me per il setup è riempire il bag l'ho lasciata per ultimo per farvelo vedere ci sono quattro bag io uso tra l'altro dei colori della classe io uso questo qua fighissimo il colore della mia classe anche se mi piace più quello blu ma fa niente mi sono incapponito con questa classe qua perché voglio vincere una missione con lei poi magari la prossima cambio classe allora inizialmente qua si mettono i gettoni tre per tipo quindi tre verdi tre rossi tre gialli e tre blu non si mettono quelli speciali multicolor perché quelli ve li dovete guadagnare livellando quello che si mette in più è un gettone della vostra classe quindi metterò il quarto gettone rosso perché io sono un ripper rosso questi si mischiano tutti nel vostro sacchettino e verranno pescati ogni round che giocherete per programmare questo aggeggio qua ora noi giochiamo la lo scenario x6039 questo qua che va a farvi una storiellina di quello che succede in questa particolare missione quindi possiamo vederla come una giornata standard tipica del vostro personaggio cyberpunk sta roba comunque gioco ragazzi è molto ambientato è molto figo cioè come vi ambienta senza rompervi le palle cioè non ci sono libri libri da leggere non c'è libro game ma grazie alle cartine lì e grazie a queste piccole storie lette e al prologo dal tutorial da fare il gioco vi ambienta benissimo e entrate dentro proprio in questo mondo cyberpunk lui vi dice come se tappare la mappa vi dice quanti dati corrotti come creare i mazzi tutto quanto ci vogliono meno di 10 minuti la fate sta roba e poi le regole speciali allora legole speciali è che cosa che dice qua praticamente se non ci sono più token lì dovete pescare una carta particolare lo scenario è perso però ripeto anche se perdete sbloccate roba e poi cos'è che dice ah sì poi c'è una cosa particolare che andremo a vedere ok niente molto molto semplice questa cosa e adesso inizieremo col con la nostra partita a tamashi una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che ogni scenario sotto indica anche la difficoltà e la durata con un range di tre scalette diciamo sempre la difficoltà che per la durata questo è easy quindi la scaletta più bassa e il tempo è meglio quindi non è così corto come scenario ok quello serve per regolarvi quando volete giocare qualcosa dato appunto che tutte le missioni voi potete giocare come quando volete tranne appunto la prima l'ultimo ecco una cosa l'ultima poi partiamo una premessina che ci vuole è che come al solito ragazzi io non mi concentro sulle regole non sono qua per spiegarvi come si gioco per giocare in maniera perfetta quindi qualche errore magari lo farò non lo so la cosa che mi preme in questi video di gameplay e trasmettervi farvi capire che sensazioni può dare un gioco del genere che è la cosa che vorrei sapere io prima di comprare un gioco quando mi guardo un gameplay non me ne frega che il tipo giochi bene che sia bravo che vinco che per da non interessa nulla io voglio capire se un gioco fa per me semplicemente perché capisco magari che tipo di sensazioni mi può dare un gioco ok è anche vero che per essere sicuri al 100 per cento un gioco ve lo dovreste giocare voi comunque allora partiamo la prima cosa che farà lo scenario qua e dirvi di andare a pescare una carta appunto dello stesso in questo caso la p 01 che è mani sulla terra le o della cosa allora questa questa storiella qua praticamente vi dice che una delle fazioni i seekers i seekers che sono questi qua e questo è il nascondiglio dei seekers hanno trovato una locazione per delle torri allora loro ve la dico in breve per non stare qui a leggervela praticamente vogliono creare un'isola protetta che impedisce che impedisca ai droidi dell'intelligenza artificiale quella cattiva di entrare dentro in modo da far vivere gli umani all'aperto e non sotto terra il diciamo la chiave per creare una zona così protetta sono delle torri quindi ci sono delle locazioni che sono queste indicate da questo token qua che sono papabili per costruire questo network di torri hanno assoldato noi per andare in avanza scoperta e cercare di capire se queste location sono buone o meno per costruire questo queste torri questo perché noi abbiamo appunto la fama di essere come ho detto all'inizio del video capaci di non farci uccidere quando ci ammazzano il personaggio quindi siamo praticamente già abbastanza famosi diciamo nel mondo sembrerebbe e dobbiamo svolgere questa questa missione devo cercare di aiutare questi tizi qua gli altri segnalini che vedete sono dei bonus one time che vengono presi quando esplorate la mappa ci sono delle regole di come vi dovete muovere quant'altro ha dato gli stendi ritengo sdraiati così li vedete c'è un po di riflesso mi spiace purtroppo quello non lo riesco a cambiare perché l'illuminazione qua e questa allora una volta letta la premessa e settato il timer si gira la carta qua c'è lo scopo bisogna almeno verificare due location questa è una mappa comunque per quattro persone gioco scala ma non nelle mappe per questo che usare il bot comunque vi aiuto un pochino perché voi farli tutti impossibile da soli e cioè non avete proprio il tempo fisico allora questa carta una volta girata va a indicare degli eventi che capitano a fine del turno adesso non ci interessano all andiamo a mettere qua c'è lo spazio apposito in questo time trek quindi dobbiamo fare quella cosa lì adesso partiamo allora prima cosa si fa un tiro di trace primo turno non ce ne frega niente abbiamo il trace a zero non bisogna tirar dadi non ci sono nemici siamo nascosti secondo turno si va a riempire il lancia questo importante questo bag voi lo andate a costruire durante la partita avete visto che ho messo dei segnalini basici piano piano si tirano fuori si parte dall'alto da sinistra verso destra che si riempiono solo gli spazi quelli luminosi che sono gli spazi dove potete mettere questi token mi sono usciti i due gialli buono uno rosso non possiamo riempire l'ultima fila perché questa va sbloccata livellando tra l'altro è l'unica possibilità sbloccarla per lanciare i partner quali potenziati poi vedremo cosa saranno si parte potenziati più avanti ok andiamo a riempire gli ultimi due ok abbiamo fatto adesso c'è la parte di programmazione poi in ogni momento ne potremmo livellare fare il upgrade però adesso non abbiamo nulla per ribellare ci servono degli slot memoria per installare i programmi che eventualmente abbiamo preso e o punti esperienza in base alle risorse che abbiamo possiamo livellare quante volte vogliamo se abbiamo abbastanza punti esperienza o slot di memoria comunque l'esperienza che va spesa a gruppi di due non abbiamo ancora nulla ci permette di aumentare il limite della nostra vita di sbloccare questi qua di prendere dei token speciali e di pescare carte per la nostra classe comunque adesso non possiamo livellare un tubo dobbiamo programmare questa è la parte chiave diciamo di quello che andremo a fare nel gioco perché perché quando combattete voi combattete fisicamente lui comunque ha una potenza d'attacco poi ci sono dei dei corpi hanno anche molto più potenza di lui base però voi potreste prima di entrare in combattimento mentre siete in combattimento per il combattimento può durare diversi round della del gioco potete hackerare i nemici ed è una cosa molto molto comoda da fare in più in più potete lanciare diversi programmi allora qui abbiamo già diversi programmi da poter lanciare per prendere i corpi dovremmo lanciare questi programmi qua che cosa vuol dire vuol dire allineare i nostri gettoni esattamente come sono come quelli che vedete qua ad esempio il visionario vedete a questo schema qua questo schema può essere attivato in qualunque posizione cioè potete anche attivarlo sia ruotato tipo possono essere messi anche in verticale to che ma se c'è più di una riga non si può fare una cosa speculare quindi a specchio non lo potete attivare ma è attivato esattamente come lo vedete e quindi già per prendere questi ci vuole una certa fatica poi di programmazione ore come ora non ho chance perché questo vorrebbe detto che in blu no 1 questo ne vorrebbe tre verdi e no 2 oltre a questi avete dei programmi base che sono qua indicati sul vostro sulla vostra carta aiuto best partner partner scusate patterns e ne avete cinque allora quelli banali sono allineare tre gettoni di un colore orizzontale verticale ma in diagonale diagonale non esiste scusate un secondo scusate è nato il fratto di lavoro allora dicevamo avete questi qua base che sono da allineare tre colori e vi aumentano praticamente gli asset di un punto di quel colore lì se riuscite ad allinearne cinque posto di tre invece prendete due asset dello stesso tipo però si può fare solo sbloccando questo questo lancia oppure c'è quello per prendere un punto esperienza che vuol dire allineare un gettone di un colore diverso di ogni colore diverso però attenzione la sequenza è blu verde giallo rosso rosso giallo verde blu e questa qua già la vedo più a mia portata adesso inoltre non è solo così banale la cosa perché oltre che sbloccare partner in giro il partner in giro dovete cercare di ottimizzare questo lancia prepara via quello che potrà succedere che vuol dire ad esempio dato che ogni turno quello riempite ma riempite solo le locazioni quelle luminose quello azzurro chiaro non avrebbe senso lasciare uno di questi gettoni su un azzurro chiaro anche se non usate conviene sempre spostarlo magari su uno scuro quindi anche questa cosa è da considerare e poi dovete già magari preparare delle combinazioni che poi andrete sbloccare in futuro capitano a volte anche delle degli asset magari dei nelle combinazioni che avete sulle carte queste qua per per attaccare sulle argomente caro queste qua adesso non ne ho ma capita e magari volete preparare delle mosse molto forti tenerle lì nel lancio perché non siete obbligati a lanciarle subito le potete tenere quanto volete e poi lanciare al momento giusto quindi c'è effettivamente un bel po di ragionamento qua sopra in più non tutti i pattern qua sono uguali ci sono quelli che hanno dei jolly degli asterischi dei gettoni speciali a volte il come il jolly ad esempio è quello che avete voi in alcuni pattern c'è il colore del tipo in cui siete specializzati voi che nel mio caso è il rosso quindi ci sono tante cose legate a questo lancio che sono carine non lo fa rendere pallosa la cosa anzi è una delle parti più divertenti che a me piacciono quando saria a questa fase di programmazione poi non tutti i corpi che avete hanno la stessa capacità di programmazione c'è una statistica che pro programma programmazione qua sotto programming il mio ne ha 4 quello base però ad esempio se andassimo a prendere il visionario lui ha 6 di programmazione cos'è questa cosa vuol dire che io posso muovere quattro oggettoni quell'altro ne muove 6 quindi ha più potenza di programmazione poi ci sono un paio di keyword che adesso non vediamo solo se saltano fuori che vi permettono di fare cose ancora più carine quando voi programmate avete quattro mosse che potete spostare questi gettoni come volete cioè quale quale comunque città ne volete ma solamente in senso ortogonale ma in diagonale e potete muovere di una posizione o di scambiarli con la col posto di un altro gettone quindi non siete bloccati non è come il gioco del 15 che siete bloccati chi potete muovervi un po come volete basta che non andate in diagonale e non gli andate a sovrapporre ora adesso c'è la fase dove io programmo quindi cosa farò cercherò di capire cosa fare l'unico asset che posso sbloccare il power per i tragettoni rossi però potrei anche preparare un passaggio in game xp che è un blu verde giallo rosso rosso giallo verde blu rosso giallo verde blu dovrei portare questo blu la vediamo sì io potrei fare così una mossa due tre e quattro vado su ok ho creato il mio partner quello che mi permette di prendere un punto esperienza che è semplicemente questo qua sotto ma letto al contrario quando è una riga sola chiaramente si può fare in tutti i modi perché lui lo ruota è come se loro tasto è questo quindi è blu verde giallo rosso però non lo lancio adesso me lo tengo lì lo posso lanciare nella fase di lancio dei programmi posso anche tenermelo lì altri turni nel caso non voglia lanciarlo perché magari preferisco fare roba più potente mi dilungo un po su questo aspetto perché è il cuore un po del gioco questa cosa del programmare quindi in questo gioco se questa cosa non vi piace farla questo gioco non fa per voi questa è una risoluzione puzzle in poche parole nell'aspetto puzzle game del gioco è questa roba qua è un 70 60 70 per cento poi c'è il resto che muoversi combattere fare cose gioco comunque vi fa fare sempre cose diverse però tutti i turni voi fate questo e cercate di risolvere il più possibile cercando di lanciare bene i vostri programmi poi anche lì lanciare un programmino a volte non è così difficile ma quando diventate bravi magari cercate di lanciarne anche due o tre alla volta e lì le cose si fanno molto interessanti ah non vi ho parlato di questa qua della learning protocol quasi sono c'è un mazzo di queste se ne sceglie una tra due prese a caso dal mazzo e sono praticamente delle side quest in poche parole se io riesco a fare questi passi nell'ordine poi ho un bonus permanente ogni passo mi dà un po di di bonus tra l'altro questa pattern in particolare c'è scusate questo learning protocol in particolare l'ho sbloccato durante una delle missioni è abbastanza speciale molto carino perché questo mi va a recuperare punti vita però il primo step dice che devo spendere un asset di difesa durante una fase combattimento cosa che adesso non posso fare perché non ne ho nemmeno con iniziato il combattimento allora fatta questa fase qua si va nel nella move in tre step ovvero io mi devo muovere col personaggio ogni personaggio a tot punti movimento voi mi muovete sulla mappa ma se incontrate una zona della città un esagono che è girato lì vi dovete fermare non potete attraversare gli esagoni girati quindi inizialmente vi muoverete solo di un esagono poi attenzione perché muoversi tanto vuol dire alzare anche in maniera vertiginosa la vostra trace track quella che tracci i nemici quindi dovete cercare di trovare un equilibrio tal muovervi e non farvi troppo beccare fermo restando che comunque prima o poi questa andrà su ogni adesso sposto questi due ogni esagono ha tre informazioni importanti la quantità di trace che beccate quando entrate la quantità di 3 che beccate se state sfermi su quell'esagono normalmente quando state fermi in un posto è più facile localizzarvi quindi solitamente sempre più alta quella del fatto che restate fermi lì e poi un'azione speciale che potete usare praticamente quando siete su un esagono può fare diverse cose nel caso specifico qua noi siamo in uno degli esagoni base che è lo scelta la cassaforte dei corpi praticamente insomma lo scelgo nella scelta ne possiamo cambiare questa la nostra specializzazione ce ne sono oggettoni con i colori possibile immaginarci con quattro colori base io potrei cambiare la specializzazione oppure abitare uno dei miei corpi avanzati questo perché voi potete avere fino a due corpi avanzati contemporaneamente potreste slocarne i due contemporaneamente li tenete storati ma ne usate uno lì gli scambiate fate un cambio corpo ok nazionale so che ovviamente non voglio non voglio fare poi una cosa che posso fare io essendo in solo player potrei usare il giordan botte mandare lui a fare l'azione al posto mio ok lui prendi bonus per me fa tutte le cose come se fossi io ma se uso lui non uso il mio personaggio e devo usare tra l'altro la batteria qui c'è ecco un altro piccolo pattern che mi permette di ricaricare la sua batteria consumando in questo caso vedete c'è c'è il jolly c'è indicata la stella che è il mio diciamo il colore della mia specializzazione quindi usando un gettone rosso un gettone blu uno di fianco all'altro come programma io posso ricaricare la sua batteria ora come opzioni io devo essere veloce devo andare a guardarmi le torri prima possibile la più vicina è questa ce l'ho solamente a due esagoni di distanza e poi da qua potrei andare giù da quel lato lì senza contare che quando potrei fermare alla base di commoners che tra l'altro danno degli oggetti molto molto buoni oppure potremmo andare direttamente lui qua dai seeker che sono quelli che mi hanno assoldato e lì posso prendere oggetti da parte dei seeker costicchia un attimino entrarci dentro a livello di traccia sinceramente preferisco esplorare quindi col mio personaggio mi muovo e decido di andare qua anche se ho movimento 2 però mi devo fermare per questo esagono è girato quindi prendiamo il bonus temporaneo che è un punto esperienza ottimo scartiamolo e poi giriamo questo esagono questo qua è la power plant molto belle queste queste figure sono degli scorci della città di posti importanti nella città questa power plant costa 4 3 centrale quindi è molto pericoloso come esagono e 6 se ci rimango in più ho questa opzione che adesso andremo a vedere comunque il mio amino il mio personaggio si è spostato nella power plant entrando ho preso 4 sul tracciato 1 2 3 4 sono in zona danger sono già messo non così bene ok adesso si può usare l'effetto dei distretti quindi posso usare dato che ho mosso il mio mino e non ho usato il bot posso solamente usare l'effetto di questo distretto che dice lancia un basic asset partner e prendi più uno assedersi se avessi preparato un programmino di quelli base quindi di questi qua con i tre gettoni che avrei avuto un bonus un asset in più per quel tipo di programma io questa cosa qua non la posso fare quindi non la faccio a questo punto apposto sono nel lancio i programmi in questa fase io posso lanciare i programmi da qua quindi praticamente spendo le mie combinazioni di gettoni per attivare qualunque cosa io voglia prendere i corpi attivare cose speciali ricaricare il bot prendermi gli asset prendere esperienza che quello che farò io adesso o andare ad hackerare nemici nel caso io li abbia appiccicati io attivo questo lancio questo programma chiamiamolo così quindi questi gettoni del programma vengono scartati vanno nella zona di dump che quella qua sotto che vi raccoglie quelli scartati e io ho attivato quel programma e quindi guadagno uno di esperienza e questo è il programma quello che fa guadagnare esperienza e questi rimangono qua nella zona degli scarti ok fase successiva poi le fasi ragazzi quando giocate sono velocissime cioè voi un turno lo giocate anche in meno di un minuto adesso sto andando lento proprio per farvele vedere un po più con calma allora passata questa c'è la fase di combattimento non abbiamo nemici in campo quindi non si combatte e poi c'è la fase della quest dove si vanno a fare le attività del giocatore le attività mondiali o si passa il tuo che non altro giocatore attività giocatore sono indicate qua sopra ma non ce ne sono però c'è l'attività la world activity e si fa adesso allora qua c'è una specie di if 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 else si vanno ad eseguire dall'alto verso il basso qui dice riduci il timer qua di 1 va a 4 poi dice che se è a 0 succedono cose in base al fatto che voi abbiate scoperto meno quei token particolari delle torri però in questo punto non succede niente ok partiamo col nuovo turno allora abbiamo la planning phase adesso posso anche livellare una cosa da fare prima di partire la testa bassa con la planning phase a mio avviso sempre quella di livellare subito perché può essere utile dopo per avere più potenziarsi un po meglio allora abbiamo due esperienza potremmo aumentare la nostra vita massima scartare uno di questi qua prendere un gettone speciale o pescare carte dalla mia classe praticamente prendere attrezzatura speciale in più della mia classe nei peschi nei peschi due ne tieni una e l'altra la metti in fondo al deck però non ho memoria per installarla quindi non mi conviene adesso sprecare esperienze in quella per quella cosa lì io quello che farò invece sarà prendere un gettone speciale quindi spendo i miei due esperienza e ora prendere il tocco e speciale questo qua jolly che non solo vale come ogni colore di quelli ma ci sono dei pattern molto potenti adesso quando ne sono ancora usciti ma usciranno che usano per forza questo gettone quando lo prendete questo qua va qua sotto nel dump quindi andrà a finire nel sacchettino quando la roba il tuo che nel sacchettino saranno finiti lo vedremo dopo adesso partiamo con il nostro ordine di turno quindi abbiamo livellato abbiamo preso un token potente e c'è la tracer o step adesso sì c'è perché io ho lasciato una traccia sono qua qua ci sono indicati due dadi quindi ne tiriamo due se esce è indicato qua sotto il simbolo questo piccolino qui è un nemico per ogni simbolo che esce se sforate arrivate fino a sopra mi pare che sono 9 o 10 location 9 o 10 tacchette qua sponate due nemici punte basta ne tiriamo questo e vediamo che esce allora ne è uscito uno l'altro no fortunatamente ci ha graziato cosa succede si pesca il nemico qua più in alto è un livello 1 questo e si va a piazzare se devo spostare le mie carte aiuto ne mettiamo questo lato qua si va a piazzare qua c'è l'enemy card e si vanno a piazzare uno via l'altro possono potete avere attaccati quanti ne volete ma il funzionamento dei nemici è molto figo nel senso che il combattimento non è che adesso si gioca solo un round io potrei ammazzarlo come no potrei morirci male però se non l'ammazzo lui rimane mi rimane appiccicato simula il fatto che voi state comunque muovendovi in questa città saipa state scappando e i nemici continuano ad inseguirvi nel mentre però voi li potete hackerare lanciare programmi però ogni tot c'è una schirmish di combattimento e si va avanti così quando ne avete attaccati tanti ragazzi qua si fa veramente dura anche perché vi garantisco che cinque punti vita non sono niente allora lui cosa oltre alle immagini che sono alcune sono veramente fighissime chiaramente molto molto sai per i fantascientifiche lui ha i punti vita in questo caso 9 e poi a due abilità che si andranno ad innescare abilità normale mi fa due punti di danno la speciale nel caso di questo nemico qua dice che il nemico c'è anche una meccanica che regola la coda di questi nemici comunque dice il nemico top quello più in alto si cura un danno e ti fa due danni a te qua ci sono i due pattern quelli per hackerarlo o scamparla questo quello sotto è un pattern speciale che serve di scappare ma diciamo non vi da anche delle penalità allora quello sopra in questo caso dice dai gli fai tanti danni pari alla metà dei punti rimasti suoi arrotondati in eccesso quello sotto invece è più semplice da eseguire diciamo però vi fa pescare un gettone di quelli di questi quadri dati corrotti tensione che questi quando li finite e game over quindi non con ver non conviene usarlo se proprio non ci siete costretti questo che c'è non mi sembra così così forte un livello 1 ma andiamo a piazzare qua quindi ci si è appiccicato alle chiappe praticamente un droide nemico adesso dovremmo cercare di eliminarlo quando ci sarà la la diciamo la fase che riguarda lui poi rifigliamo il lancer qua andiamo a prendere il nostro sacchetto andiamo a pescare i gettoncini fino a riempire tutte le parti luminose quindi andiamo a pescare un blu sempre dall'alto verso il basso da sinistra verso destra un verde quando questi qua quando non ne posso pescare più vado a svuotare il dump dentro questo sacchetto e anche qui in base a quanti sono i gettoni che avete qui potete calcolarti un po immaginare quanti ce ne sono qua dentro quindi è randomica fino a un certo punto la cosa è comunque calcolabile anche se non ci vuole di rompermi le scatole a calcolare nulla adesso il sacchetto io l'ho finito quindi la prossima volta che dovrò pescare dei gettoni dovrò riempirlo con tutto ciò che c'è nel dump ma non lo faccio subito perché adesso magari ci potrebbe finire qualcosa nel dump quindi è meglio più roba ci butto dentro e meglio è detto questo fatta la fase di refill lo andiamo a programmare allora la cosa bella sarebbe fargli questo danno qui a lui ad esempio gli rimangono 9 punti vita questa cosa qui se gliela faccio adesso questo hackeraggio qua gli fa danno pari a metà di sui punti per eccesso quindi farei 5 punti di danno cioè gli faccio una fratanga di danno e per farlo questo serve un una stella che il gioia il rosso quindi rosso rosso verde e guarda caso ce li avrei quindi io preparo 12 è un primo partner qua l'ho già preparato per far fuori lui poi vorrei iniziare a prepararmi questi perché questi corpi qua mini sfizzano parecchi soprattutto il visionario mi sembra buono tra l'altro se ne prendete uno poi si rifilla il market e ne mettete un altro questi sono tanti quanti sono i numeri di giocatori più uno quindi ho fatto due mosse mi devo rincitrullire qua me ne mancano due di mosse ma cosa voglio fare vediamo un po potrei mangi servirebbe anche memoria potrei liberare i dati per la memoria allora io potrei fare così questo su e siamo a tre per iniziare a crearmi quello questo verde lì tra le balle tiro giù questo facendo questa mossa tra l'altro ho liberato due chiari gli spazi chiari per il prossimo refill e più spazi chiari avete vuoti e meglio è comunque ok non è stata una gran programmazione ma per adesso ci accontentiamo poi non la metto qui questa perché mi piace di pioverla qua nei carti aiuto poi adesso ci dobbiamo muovere quindi se rimaniamo lì ci becchiamo 6 di traccia ciao potremmo muovere però anche il nostro tizio ma il nostro scopo abbiamo detto arrivare qua quindi ci spostiamo qui abbiamo a questo è buono un asset di power ok e poi giriamo anche questo gettone qui dietro non c'è niente questi sono dei token multifunzione che servono per tante cose e ogni missione ogni situazione quello che fanno è diversa comunque qua abbiamo il data transmitter tanto è molto bello vedete come molto bello questo tai siamo una stazione di dati molto figlia tanto nella neve mi sembra comunque questa qua anche una traccia i4 molto possente questa allora entriamo qua dentro ma scusate una cosa che non ho fatto quando sponato il nemico questo si azzerava andava a zero ci sono praticamente impossibile muoversi adesso salgo suo 4 1 2 3 1 2 3 e 4 sono sempre in zona 222 poi vediamo se possiamo attivare quel distretto dice puoi cambiare questo base prendi un asset dello stesso colore del tuo ci posso entrambi le cose allora questo non lo cambio ma prendo un asset dello stesso colore quindi prendo un altro power ok adesso c'è la lancio il mio programma qua che viene buttato giù nel dump facendo questo gli do una bella scossa di 5 punti di danno al nostro catch ok mentre ci sta inseguendo inizia a far uscire le scintilline poi non so voi ma io mentre gioco le immagini me le creone nella testa ok adesso c'è il combattimento combattimento prima cosa si lancia in italia del nemico e vediamo un po cosa fa il nemico c'è anche la possibilità che non faccia nulla perché uno di quella c'è una faccia che è vuota e se riesce lui non attacca è una condizione un po culata quella allora è venuto fuori che attacca un nemico solo e c'è lui quindi ci attacca a lui e usa il partner suo quello di questo simbolo qua quindi ci fa due punti di danno ci fa lui però non ancora adesso lanciamo i dadi noi allora noi cosa quanti ne lanciamo abbiamo un solo dado d'attacco però per ogni punto asset che spendiamo di power aggiungiamo un dado in più abbiamo qua due due diciamo miglioramenti che sono quelli con cui iniziate allora che sono in combattimento uno molto bello è il termination code quasi sono tipici della mia classe che è una classe molto orientata al combattimento il termination code dice che se al nemico rimangono tre punti vita o meno se attivo questo lo termino allora lui ne sono rimasti quattro quindi non posso usare il termination code l'energy booster cosa dice dice che posso aggiungere più uno di caratteristica all'attacco quindi tirerei due dadi ma se lo faccio soffro danni per ogni eventuale risultato vuoto che ottengo quindi qua bisogna stare attenti questo non è un nemico così letale io preferisco spendere l'asset qui allora diciamo che ne spendo uno quindi tiro solo due dadi e vediamo cosa succede con questi dadi allora non è che è successo sta gran cosa ok adesso si va nella fase di spendere questi dadi sì i miei che quelli dei nemici in questa fase qua poi ci sono abilità che vi permettono di fare c'è un'abilità mia che mi permette di fare tutto io poi nemici insomma chi si alterna un dato io un nemico un dato io un nemico e così via fino a che ho finito gli dadi o sono finici nemici a quel punto erano di combattimento termina i nemici rimanenti rimangono lì con i punti danni fatti e io se sono ancora vivo va davanti allora io attivo questo che è il risultato quello basico mio lo piazzo qua questo fa un punto di danno questa cosa mi sarà comoda perché il prossimo la prossima volta che posso combattere posso usare il termination code quindi questo adesso la sei punti di danno questo rimane quanti ho dato è stato perso tocca a lui mi fa il suo danno non ho scudo quindi mi becco due punti di danno secchi 12 tra l'altro non neanche abilità speciali sue ah no scusate detto una cavolata lui ce l'ha un'abilità speciale lui dice quando tu perdi qualunque a montare di punti ferita fai altre tanti danni quindi gli faccio due punti di danno a questo qua ero abituato mi ricordo ancora l'abilità del body che ho usato ieri che invece aveva un'abilità molto carina però non c'è neanche tra questi era il cavaliere ok adesso è arrivato a 8 punti ferita quindi è un passo della morte ma lui ha finito perché questo dado che indica il nemico si sposta fuori dal da di lui da lui non c'è più nessuno da attivare quindi lui ha finito con l'attivazione e io ho finito perché l'altro dado un blank e quindi non posso attivare nulla fosse stato un dado diverso avrei continuato ad attaccare quindi il ram di combattimento è finito così io sono sceso lì lui è quasi in fin di vita diciamo che è andata abbastanza bene devo riuscire assolutamente a caricarmi gli scudi così posso iniziare a potenziarmi la vita tramite questo protocollo ok quindi finito fase di combattimento queste phase qua va indietro di uno va a tre non è ancora zero quindi qua non si controlla nulla ok però noi abbiamo sbloccato un'antenna fase nuova fase nuova i nemici danno appunto esperienza quando crepano fase nuova non possiamo livellare che non abbiamo praticamente nulla qua per livellare non abbiamo né xp né memoria e quindi dobbiamo fare il tiro di trace qua purtroppo siamo sempre in zona doppio dado vediamo un po' cosa viene fuori ci è andata bene non vengono nemici perché questo simbolo che è uscito non attiva nessun nuovo nemico quindi rimane questo catcher e basta poi dobbiamo fare la refill del lancia quindi andiamo a prendere qua ma non c'è nulla cosa si fa se volete fare i figli sganciate il dump della plancia quelle cose si incastrano anche un po troppo bene devo dire per quello che l'ha fatto sganciabile io non ho capito all'inizio lo sganciate e versate tutto qua dentro tac anche se a volte quando sono pochi non sto qui a fare sta cosa una bella mescolata e ricarichiamo il nostro lancia allora abbiamo abbiamo il jolly quello però non lo voglio sprecare il rosso il rosso e il blu ecco ora in questo gioco sono tante le cose da considerare è un gioco che vi permette di ragionare parecchio io sto giocando adesso in maniera un po lineare ma visto che ho un tipo di learning protocol che si basa sul fatto di caricarmi gli asset quelli verdi cosa intelligente sarebbe stata quando ero in quel distretto la cambiare questo in verde magari e andare oppure livellando andare a prendere dei gettoni verdi in più in modo tale da avere più probabilità di farmi delle combinazioni verdi cosa che non ho fatto cioè anche se magari da questo gameplay vi sembra semplice in realtà il gioco può arrivare a diversi gradi di difficoltà anche celebrare vostra cioè oltre che il gioco vi assicuro che è difficile adesso non avete ancora visto nulla di questa missione è difficile ma anche voi ne avrete da far fumare il cervello se vi volete applicare perché c'è di roba che dovete stare attenti a controllare e a ottimizzare allora adesso facciamo la programmazione purtroppo io asset verdi non riesco perché anche col jolly non ce la faccio potrei programmare un blu lui lo farei fuori sul colpo se riesco a fare questo asset qua rosso rosso verde e potrei farlo semplicemente spostando il rosso qui e il verde qui perché anche in questo senso va bene quindi quasi quasi lo faccio quindi una due questo sarà il programmino che lancio per far fuori lui abbiamo quattro mosse io gli slibero cavolo non riesco a prendermi un corpo qua potrei prendere questo la potrei muovere questo 34 allora facendo così ho innanzitutto liberato due zone chiare da poter rifillare ma mi sono preparato a prendere il visionario perché questo jolly mi va bene come rosso mi mancherebbe un giallo qui i due blu ce l'ho io semplicemente il giallo qui ce l'ho mi manca un rosso qui che però magari potrei far arrivare pescando lo o da qua sotto quindi diciamo che mi sto preparando a quella cosa lì come programmazione questa mi soddisfa anche se ripeto non sto ancora ottimizzando al meglio qua poi ci muoviamo a star fermi lì e da imbelli andiamo nel nel layout dei commoner arriviamo qui sicuro la non lo sto praticamente usando adesso ma vedrete magari più in là lo uso il mio jordan bot nelle date commoner entrando mi becco un trace di 3 1 2 3 quindi siamo in zona 3 da di qua uscirà un sacco di roba poi andiamo a attivare il suo effetto e questo è molto buono perché loro hanno degli oggetti quindi lo posso commerciare con loro in poche parole e vado a pescare un un argument dalla dalla passione di commoner questo qua attenzione io non ce l'ho installato se lo voglio usare lo devo installare sprecando slot di memoria quando quando livello allora cosa qua è un neutrino jet kelvis cosa fa anche lui un partner per essere attivato in fase di lancio programmi quindi un giallo quello che voglio e un rosso fa tre punti di danno poi puoi muoverti in un distretto adiacente senza incrementare la traccia del distretto questo è molto buono costa due slot di memoria quindi devo usare devo avere qua incrementare l'isola di memoria e tra l'altro è un persistente alcune cose che prenderete sono one shot sono fortissime però tipo che ne so bombe lancia missili cose varie voi o anche altre cose di programmazione voglio usate proprio vanno scartate hanno la parola break si rompono questi invece lo teniamo di solito li tengo qua vicino alla time track quelli che sblocco lo mettiamo lì e possiamo installarcelo più avanti poi è venuto momento di lanciare i programmi quindi lanciamo il nostro hacker agio da sto tizio qua quindi abbiamo rosso rosso verde eccoli qua vanno giù nel dump qua ecco con questi tre blu poi potremmo creare anche un pattern per la memoria lui si fa un punto di danno che tanto basta ad eliminarlo quindi questo qua muore e mi guadagno un bellissimo punto esperienza il nemico qua lo andiamo a scartare mi siamo liberi ci siamo liberati da quel catch però attenzione a un cantare vittoria troppo presto poi fase combattimento non c'è perché non c'è più un nemico siamo a posto la quest qua va avanti due e partiamo con il nostro nuovo turno allora non livello perché non posso solo un xp riprendere riprendiamo questo qua e lancia lo rifiliamo due anche nel mentre che lo rifillo se si svuota va riempito subito ok e l'abbiamo riempito io purtroppo così una situazione schifosa che non riesco a crearmi dei partner per caricarmi lo scudo ok poi scusate non ho fatto la triste quella dei nemici adesso i nemici per farla si tirano tre dadi ok ne arrivano due quindi arrivano due nemici questa va a zero si scarica ci arriva un nemico di livello 1 questo qua è uno zoe molto carino lo zoe 8 punti vita picchia ancora poco questo ha un bel po di pattern per di programmazione qua per fargli il culo a strisce la programmazione qua non sempre gli fate le chiappe a volte serve per recuperare voi degli asset ad esempio qua se riuscite a lanciare questi programmi molto semplici prendete in questo caso slot memoria che è la cosa ci aiuta molto così non spreco la mia programmazione per prendere memoria ma uso lui come mezzo per potenziarmi e poi un nemico di livello 2 qui abbiamo un net search questo non l'avevo mai incontrato questo qua ha 13 punti vita ragazzi fa o due o quattro danni quindi ti fa malissimo ha un unlock qua che non so cosa voglio dire una parola vediamo un po' cosa fa l'unlock unlock 1 ah questo qua mi va a sbloccare a far scartare questi quindi è buono poi fa tre danni per ogni unlock è data slot sul tuo lancio non è mare questo si attiva a catena però questo è molto forte come nemico è già decisamente più forte dello zoe allora il secondo nemico va sotto qua si devono lasciare fuori solamente i dati dei danni perché lui non lo possiamo targettare solo il primo possiamo targettare con un altro alla fila ma gli altri attaccano lo stesso quindi servono i dati dei danni che ci faranno dei loro attacchi ok quindi abbiamo refillato abbiamo fatto il trace roll che andava prima del refill adesso programmiamo adesso qua la cosa si fa interessante perché abbiamo tanta roba allora innanzitutto potremmo lanciarci il visionario forse con due mosse il visionario lo possiamo lanciare però poi riusciamo anche a far fuori lui sì allora facciamo una e una due e qua abbiamo fatto il partner del visionario perché il rosso ci sprechiamo il jolly lui invece posso fare il stella mio e il rosso posso unirlo con il verde o con il blu entrambe le possibilità quindi posso lanciare sia un programma che l'altro allora il primo gli fa danni pari a due volte l'ammontare delle tue memory ci faccio schifo mentre l'altro prendo una memory quindi farò l'altro di sicuro che vuol dire rosso con uno qualunque io tiro giù posto verde questo dovrebbe essere la mia terza mossa perdonatemi 1 2 mi pare che è la terza quindi me ne mancherebbe una allora l'altra mossa che potrei fare sarà sliberarmi uno slot di quelli chiari quindi vado giù con questo perché adesso quando lanciano la programmazione così quasi si svuota praticamente tutto ok però la programma fatta facciamo il movimento e direi di andarsene qua sempre col nostro quindi giriamo questa abbiamo un carica di power questa ci serve per segare il nemico quello possente poi si gira questo si gira è un simbolo così che non ho idea se sia cosa positiva o meno perché ho detto che cambia la missione qua c'è una casetta abbandonata sembrerebbe un rifugio abbandonato a questo ha un'ottima abilità molto buona allora quando entriamo ci va a dare 3 1 2 3 quindi non tantissimo rimaniamo abbastanza bassi con profilo alla program 3 che adesso andiamo a usare allora la program cosa fa questa qua possiamo ah no questa era no pensavo che era la prepay scusate cioè è buona comunque ma la prepay era meglio possiamo praticamente fare tre mostri di programmazione quindi cosa facciamo allora questi qua sono cioè no in questo caso è inutile perché ho già tutto pronto qua no peccato un'altra situazione sarebbe stata buona no pensavo che era una prepay la prepay è più figa perché vi permette di pescare da qua ma tutto contemporaneamente poi li mettete qui come volete anche negli spazi scuri quindi è una mossa molto forte la prepay ma questa era una program mi sembrava strano fosse così figa come mossa adesso lanciamo i nostri programmi allora lanciamoci visionario visionario migliora il walker in tutti i modi cosa facciamo quindi sprechiamo tutti questi abbiamo rosso giallo blu blu jolly che va bene per il rosso e il giallo quindi questi 6 qua vanno giù qua ciù abbiamo lanciato un programmone praticamente ci impossessiamo di questo che diventa il nostro corpo attuale ora dovremmo andare a tirar fuori lo standee di questo qua eccolo qua alcuni standee sono veramente figli devo dire ok questo qua è esattamente lo standee del visionario poi chi ha le miniature chiaramente usa le miniature però ripeto a me le miniature in questo gioco sinceramente mi sono l'impiccio ecco quando prendete il corpo qua ne va caricato un altro nel mercato questo qua è il coder cioè è il programmatore ragazzi infatti questo qua ha 7 di programmazione fa un po' schifo nell'attacco però quando lanci un programma di tipo hacker prendi un assist che vuoi ma non è malaccio una cosa che mi piace di questo gioco qual è di questi corpi ce n'è una valanga ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 più per oggi sono quelli che sbloccate che sono quelli che sono loccati sbloccati giocando alla fine sono mi pare 26 una cosa del genere ed è una figata questa perché il vostro stile di gioco è molto più fresco è come se cambiaste ogni volta personaggio in un GDR cioè fanno comunque cose diverse hanno abilità diverse è molto figa questa cosa ad esempio il nostro visionario cosa? il nostro visionario ha movimento 2 come quell'altro però prima che attacchi puoi cambiare questo prima di attack roll questa cosa è interessante perché dato che ci sono delle cose che implicano il colore qui potrebbe essere molto utile ha 2 dagli d'attacco quindi un po' più forte programma di 6 un bel po' più forte fa un danno prepara 2 che è fortissima come mossa e poi fa una dump qua dump è inizia e tiro giù questi qualunque numero di colori qua e fa un danno per ogni cosa da minchia ha un'abilità questo qua che è fortissimo molto bello sto visionario cioè almeno a me spare forte però scusate c'è un altro programma che devo lanciare ovvero questo qua di hackerare lui che avevamo detto quindi questo lo uso con rosso e verde mi dumpo e vi prendo uno slot di memoria così possiamo iniziare ad installare roba qua e potenziarci ok ah se ne avete diversi di gettoni potete lanciare il programma più volte io avevo solo una combinazione potete fare n combinazioni comunque avete visto abbiamo praticamente svuotato il lancio allora adesso c'è la fase di combattimento ci sono i tiri dell'attack roll potrei usare la sua specialità potrei cambiare quello mi conviene perché se io lo cambio e poi uso la sua abilità qua sotto cioè se avessi tre gialli potrei fare tre danni con l'abilità sotto però adesso sono troppo debole così come sono non ho fatto una build buona per lui quando vi dicevo questo gioco dovete ragionarci tanto poi adattarvi a ogni situazione il bello è anche quello cioè con lui mi vengono in mente un sacco di build particolari da fare ma adesso sono ancora a base tra l'altro il rosso è il nostro più forte quindi non lo vado a toccare questo allora perché voi potreste caricarvi con xp un sacco di colori diversi dal vostro base a questo punto con lui cambiate andate su quelli ne avete di più qua insomma vabbè non so se mi avete capito ma pazienza allora malissimo qua è uscito un 2 quindi agiscono tutti e due e poi fanno la mossa speciale quindi molto molto male adesso vediamo cosa abbiamo noi come i dadi abbiamo scusate i miei due dadi di attacco base sui quali io devo spendere posso spendere io direi di spendere 3 power cioè 2 power 1 2 quindi a lanciare 4 dadi ho bisogno di fare di fare tanto male qua questa qui no non la uso l'energy booster la vedo sempre un po' troppo rischiosetta no mi lancio 4 dadi altre cose che posso fare adesso sinceramente ma direi che non ne ho no direi di no allora il lancio è buono mi sono venuti questi 4 dadi qua sono tutti quanti utilizzabili tra l'altro ne abbiamo due speciali allora tocca prima noi voi gli facciamo un danno o facciamo una prepare 2 qui quanta roba ho qua dentro qui non ho niente allora faccio una prepare 2 quindi attivo ma comunque mi sa che crepo allora attivo questa la prepare 2 devo buttare tutti i gettoni qua dentro perché non ne ho allora adesso ne pesco due e li metto dove voglio quindi pesco due gettoni contemporaneamente un blu e un rosso posso mettere dove voglio anche nelle posizioni quelle non cioè non light dove li metto questi bella domanda così come sono faccio non mi dicono niente questi potrei metterli per expare expare due verde questi dovrei scambiarli giallo rosso metterei questo qui e il rosso qui ma non è che mi sia stata così d'aiuto allora lui invece cosa fa la speciale ci va ad ammazzare si attiva prima l'ultimo il net search lì come cavolo si chiamava la speciale fa 4 punti di danno non abbiamo scudi abbiamo 3 punti di vita e ci moriamo male come delle chiappe andiamo a 0 ok niente panico niente panico cosa succede resettiamo il personaggio quindi è una cosa che la farete diverse volte nella nelle vostre avventure a resettare non è nulla di così traumatico cioè a volte non lo è allora quando vanno a 0 cosa fai tiri un dado nemico e vedi un po' che cosa esce come simbolo se vi butta bene vi tenete il corpo altrimenti anche quello va al creatore ecco appunto butta male allora se rollate questo simbolo qua purtroppo il vostro corpo attivo viene scartato e va a finire in fondo ai punti del corpo cioè scusate alle carte corpo quindi niente ce lo siamo ce lo siamo goduti per pochissimo il nostro visionario adesso dobbiamo comprarci un altro se ne avessi comprati due potevo andare ad attivare adesso quello nuovo ma non ne abbiamo e torniamo a essere un walker poi prendiamo due bug di questi questi vanno nel dump poi finiranno nel nostro sacchetto e romperanno le palle per la programmazione quindi possiamo muovere moco scusate possiamo morire solo due volte in questa in questa mappa poi tutti i dati qua vengono vanno nel dump vengono scartati tutti scarti tutti i nemici i nemici se ne vanno e il trace va a zero poi i punti vita tornano massimi e la tua miniatura stand finisce nello shelter praticamente io mi risveglio via questo mi risveglio qua devo fare una bella corsa e questo era il reset ok siamo morti malissimo ora continuiamo quindi finita la fase di combattimento c'è la fase questa qua va indietro di uno abbiamo solo un turno per arrivare là nuova fase planning phase allora stavolta abbiamo uno di memoria vediamo che ci possiamo fare con uno di memoria scarti un data token prendi un chosen dump allora io farei così spendo quello di memoria e prendo un dato base direi quello dello scudo e lo mettiamo nel dump ok poi il trace roll non c'è perché non ho non ho più niente lì e andiamo a rifillare il lancer ok allora abbiamo rosso abbiamo verde abbiamo blu rosso giallo adesso vado un po' più veloce giallo la jolly e no ce ne sono ancora due qua dentro e un rosso sono potenziato col verde ma non serviva programmazione faccio schifo c'ho gli asset tutti a zero una facile sarebbe questo asset qua e poi non scurrerò mannaggia non mi serve un tubo quello ma perché perché l'XP ce l'abbiamo un partner XP potrei fare un blu verde giallo rosso blu verde giallo rosso blu no anche quello è difficilissimo quindi facciamo così va andiamo su un basico una due una due e poi 3 e 4 action phase e adesso dobbiamo essere veloci lui si muove di due qua facciamo un disastro con il trace però ci dobbiamo spostare quindi uno due finiamo qua e ci siamo alzati di otto di otto praticamente quasi al massimo siamo belli che spacciati poi possiamo cambiare il jolly di prendere un asset base di quello che abbiamo siamo spacciati allora cambio questo metto il verde e prendo un asset del verde anche se a me il rosso piaceva ok poi launch step lancio questo e prendo un asset del power ok e poi il combat step non c'è niente e niente mi sa che è finita qua siamo stati intoppati perché adesso questo va giù riduci di uno allora se è zero e ci sono almeno due torri rivelate se è riuscito a scannerizzare le colline dei data seeker e si continua se invece è zero e ci sono almeno di due rivelate ogni giocatore ah no continuo prende un bug e incrementa questa di uno non ci ha sciottato la missione non sarebbe stato possibile se no ok si alla prossima buggata siamo cioè no altri due siamo spacciati va bene quindi ritorniamo di nuovo allora livellaggio non posso livellare un tubazzo rifigliamo qua qua ne mancava uno ok e questi finiscono tutti nel sacchetto perché non ne ho più da pescare ok mescolatina e andiamo a riempire di nuovo il launcher il bug bug ma che sfiga ma porca di quella miseria due bug c'è da dire che i bug poi vengono scartati subito però porca miseria ma che sfiga tra l'altro portare questo là ci costa un casino programmazione allora che faccio che faccio dire la verità non ricordo se i bug li posso spostare cioè per levarli dalle ma tanto questi si scartano quindi chi se ne frega faccio schifo c'è una situazione che fa schifo ma proprio schifo schifo mamma che situazione di merda che ho che pacco giallo rosso queste verde potrei fare un exp ne scambio scambio questi due una due due e poi porto su questo tre e quattro c'è una cosa di questo tipo però è stata una cosa un po' inutile poi move and trace allora ah cacchio non ho scusato non ho fatto il roll dei nemici il roll dei nemici era tre allora ne esce uno solo mi è andata molto bene un enemy di livello 2 abbiamo un charger cos'è sta roba una palla praticamente una sfera con su un laser 9 punti di vita 3 di danno 3 di danno e ti dumpa tutti i tuoi jolly da lì da 3 di danno e ti si è che questo qua mi spacca vabbè abbiamo beccato quello e abbiamo detto move and trace questo va a 0 allora dobbiamo andare là dall'antenna quindi 1 e 1 2 ah no però scusate che 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 imbello ce n'erano due di no ho sbagliato torno indietro mi sono rincitrullito ce n'erano due quindi no ho sbagliato il bag non lo prendevo questo qui il dato corrotto qui stava a 0 ah niente questa l'ho cannata vabbè facciamo finta che succede adesso praticamente io stavo a 0 ok finisco il turno e riprendo normalmente no perché c'erano due antenne girate non me ne sono proprio accorto ero riuscito a soddisfare la condizione che babbo che sono vabbè niente facciamola facciamola così facciamo il combat phase allora attack roll vediamo lui se agisce si è uno fa l'attacco quello normale io lancio un dado solo sprechiamo l'asset qui tiriamone due c'era anche la fase di lancio programmi ma ho saltato ho fatto un casino ho fatto allora lancio programmi potevo fare questo si lancio lui e gli faccio tre punti di ganno e questo qua di fuga no se ne frega lancio due dadi allora mamma mia che sfiga allora attivo questa un danno quello basico lui mi fa tre danni quindi uno due tre però lui si fa tre danni lui quindi scandiamo da 5 dannone due mettiamo un 5 e va a 7 e l'altro mio non faccio niente niente sto andando veloce perché ho fatto quella roba la mia mi ha intrippato vabbè tanto ripeto questo è per vedere come gira la partita mi sa che a questa ora avrete già capito se il gioco può piacervi o meno quindi fase di attacco finita quest phase adesso la facciamo giusta allora cosa succedeva qua che era la cosa che sarebbe dovuta capitare prima a questo in fase di programmazione il bug va giù il data corrupt e se ne va non vi rompe così tanto le scatole ah tra l'altro anche qua si sta andando troppo veloce quando mi ha attaccato lui io avrei potuto usare la difesa quindi usavo la difesa prendevo un danno in meno usando la difesa andavo ad attivare questo il learning protocol quindi cosa dice spendi un'asse di difesa durante il combattimento il reward prendo la prima incrementi la vita massima di 1 quindi questo va su di 1 6 di vita massima altre carte specifica quando passi di livello aumenti questa ma aumenti anche i tuoi punti di vita attuali questa però non dice niente quindi boh probabile che non non mi li aumenta quelli attuali ok succedeva tutta quella roba lì questo andava giù e poi adesso si attivava questo reward activity quindi questo era 0 se ci sono due di quelli rivelati se è riuscito a fare lo scan ogni giocatore prende un punto experience ok per ogni cosa ho rivelato ah quindi due punti experience però che ne ho rivelati due di gettoni intanto non ce lo sono neanche cagato il Jordan Bot vabbè adesso non mi serviva nella seconda fase servirà molto di più quello però non voglio spoilerarvi tanto adesso mi sa che finiamo poi cosa fai? ah scarti questa carta qua e si va avanti con lo scenario si va a prendere la P02 che è questa cannonata allora cosa dice questa? tu gli mandi praticamente i dati ti dicono i siti che è raba lavoro bravo bababà però non fai tempo a prendere respiro che c'è un altro messaggio molto urgente praticamente sono sotto attacco esplosione artiglieria è un gran casino non c'è tempo per fare dei test adesso perché la loro base viene attaccata dall'intelligenza artificiale quella cattiva allora si setta questa a zero ed è a zero si piazzano due punti vita sulla base dei seeker qua due punti vita per giocatore e poi piazzi un nemico speciale che è questo il missile strike e lo piazzi vicino alla loro base quindi qua sopra la loro base in poche parole loro vengono attaccati dal missile quello che dovremmo fare a noi è aiutare loro a questo punto la partita io ve lo dico già perché l'ho giocata diverse volte questa e ho sempre perso vi permette di prendere diverse scelte di fare diverse cose allora la regola speciale qual è? noi dovremmo aiutare loro qua dice se siete sulla loro base o adiacenti in questo caso noi possiamo attivare lui stavolta per fare questa roba senza tornarci indietro col personaggio quindi noi possiamo andare avanti ad esplorare e fare altre cose e lui invece lo facciamo interagire con loro allora se siete lì vicino potete prendervi quel missile là e agganciarlo come nemico attenzione che va in coda sotto questi e quindi praticamente li salvi a ogni giro per ogni nemico che c'è là loro prendono un danno quando vanno a zero game over cioè loro sono morti però non so se è game over o meno perché io li ho sempre salvati quindi non ho idea poi allora qui c'è la world activity che si andrà a fare adesso io qua mi fermo non so il video viene troppo lungo non voglio fare un video lunghissimo perché la missione va avanti ancora cioè può andare avanti ancora un bel po' in base a quello che farete voi io solitamente la supero questa fase riesco ad andare avanti un paio di altre fasi però poi non ce la fò più cioè mi hanno sempre battuto sta di fatto che quella parte che ho visto io succede che devi prendere delle decisioni alla fine se salvare l'hai dato di questi qua che finisce con il suo tastacco o i seeker quindi lì puoi fare delle scelte io ho sempre salvato loro finora quel missile là sono sempre riuscito a farlo fuori questo qua ha dei pattern carini qua sopra perché questi pattern qua questo non fa tanto male però è chiaro che se avete tanti nemici già attaccati e vettelo in fondo ora che riuscite a beccare lui dovete fare fuori prima di tutti gli altri cosa vuoi vi permette un pattern per scartarlo uno per sconfiggerlo e poi ce n'è uno molto più semplice che però che è quello di fuggire che però vi fa prendere questi data corrupt perché ne avete solo 4 quindi dovete fare qua delle scelte voi dovete vedere in base alla situazione in cui vi trovate sta di fatto che adesso la partita la termino qua perché se no andrò avanti un'altra ora bisogna concentrarmi bene a questo gioco sicuramente livellerò col personaggio io spero di avervi dato l'idea di come funziona l'idea di come il feeling che ha questo gioco qua come vedete non è né incasinatissimo né semplicissimo da ragionarsi sotto ce n'è parecchio dovete anche la città sembra piccola ma vedete che ho visto pochissimo anche nelle mie altre partite più di metà non riesco a vederla questa città se siete in 4 chiaramente la vedete tutta poi ogni mappa ripete diversa però andare in giro a trovare i posti giusti con gli upgrade giusti non è male andare a prendersi le carte di potenziamento dalle varie fazioni non è male le carte di potenziamento della mia fazione io queste ne ho presa neanche una purtroppo in altre partite che ho fatto ne avevo 4 o 5 siete molto più potenti con queste i body ce ne sono alcuni ripeto che magari sono perfetti per la vostra situazione perché poi anche in base a quello che è la missione ci sono alcuni corpi più adatti rispetto a altri e poi c'è tutta questa parte della programmazione che è molto sfiziosa mi piace come vengono gestiti i nemici che non devi finire per forza il combattimento ma si va avanti questi TCL praticamente siete voi che scappate con questi attaccati alle chiappe che possono incrementare sempre di più la loro fila dovete anche essere voi efficienti a farli fuori perché se li lasciate lì in giro di 2-3 turni poi ne avete addosso troppi e siete morti e vi sciottano come avete visto i nemici di solito fanno veramente male se non avete un sacco di asset di difesa o di dire rolo o di altro cioè è molto importante curare tutto ecco non dovete fare solo una cosa ma dovete cercare di equilibrare il tutto quindi programmare bene aumentare gli asset insomma ce n'è di roba a cui pensare in questo gioco a me sfizia veramente tanto è presto per farci un video di due chiacchiere per dare un giudizio su cosa ne penso meno chiaramente mi sta piacendo veramente tanto però voglio vedere molte più missioni magari riuscirò a finirle tutte non lo so vediamo è un gioco fatto molto molto bene comunque a mio avviso e a livello di cyberpunk non ho visto quello nuovo che è uscito anche se mi sembra proprio di tutt'altro genere però finora questo qua è il miglior gioco cyberpunk su cui ho messo le mani e che mi pare ci sia in giro se vi piace l'ambientazione è sicuramente un plus però ecco è un bel gioco anche se mi piace l'ambientazione se vi piacciono i puzzle game questo non è un german è un po' un american però c'è la fase puzzle insomma si può mitigare un po' tutto il fattore fortuna certo c'è per carità che tirate i dadi però tutto sommato poi quello che fate insomma conta parecchio nel gioco bisogna ragionarci bene ecco tutto lì vabbè ragazzi detto questo io vi ringrazio vi saluto e al prossimo video ciao a tutti da Board Games e dintorni